cari amici di san polino siamo come promesso siamo ritornati per controllare l'avanzamento dei lavori qui a corso bazzoli oggi è il primo settembre sono più o meno le 16 del pomeriggio e purtroppo dobbiamo constatare che pur essendo giovedì il cantiere è deserto come potete vedere al momento non c'è nessuno che vi sta lavorando è una cosa che non ci aspettavamo magari ci sarebbe piaciuto trovare qualcuno sul cantiere per poter magari vedere insieme l'andamento dei lavori però purtroppo constatiamo che anche oggi il cantiere non sta lavorando così come ci è stato segnalato telefonicamente da alcuni cittadini residenti appunto qui a due passi da corso bazzoli voi sapete che corso bazzoli è ormai una necessità possiamo dire impellente e irrinunciabile sia per il quartiere che per le attività commerciali del quartiere stesso ci avviciniamo all'ingresso del quartiere per essere sicuri che effettivamente il cantiere sia chiuso e non possiamo fare altro in questo modo che segnalare ai nostri amministratori che hanno assicurato sempre che i lavori sarebbero proceduti in maniera abbastanza spedita che purtroppo i lavori non sembrano essere così spediti ecco la certezza che il cantiere è chiuso come potete vedere benissimo dal lucchetto vogliamo sperare che sia una cosa che sia esclusivamente legata alla giornata odierna magari per motivi che noi ovviamente non conosciamo però non mancheremo di ritornare sul cantiere anche nei prossimi giorni per verificare che i lavori procedono regolarmente onde evitare che nel tempo si accumulino dei ritardi bene per il momento da san polino è tutto san polino live ha realizzato per voi questo servizio il giorno primo settembre alle ore 16 grazie grazie